Articolo 33,3. Allora, dall'inizio di questa seduta noi dobbiamo subire la corrida e i cori in aula. Il regolamento non consente questa cosa, quindi Presidente, la prego, non è possibile continuare così con il tifo da stadio. Il tifo da stadio non dovrebbe essere in quest'aula. Io non sono disposto a stare qui a sentire ad ogni intervento d'opposizione il tifo del pubblico. Non mi sembra rispettoso. Io personalmente non me lo merito e molti dei miei colleghi non se lo meritano. Quindi non sono qui ad ascoltare gli interventi delle opposizioni. Non sono qui disposto a prevaricazioni antidemocratiche da parte del pubblico che non sa avere rispetto per le persone. Quindi vi prego, ecco, anche questa consigliera antidemocratica, io ho avuto sempre rispetto per tutti. Grazie consigliere Coglia. Questi signori antidemocratici non rappresentano gli eletti che li hanno eletti. La seduta è sospesa, grazie. Quindi vi chiedo cortegiamente di far accompagnare fuori, come previsto dal regolamento, i disturbatori dell'aula.